Lo dico per esperienza personale, guardate, io penso che il vaccino mi abbia aiutato, mi abbia aiutato in maniera sensibile, perché i primi giorni sono stati davvero complicati e non so senza la vaccinazione se avrei dovuto ricorrere alle cure ospedaliere. Penso che insomma questo deve essere un messaggio che noi mandiamo con forza. Dico a chi non si è vaccinato, non volete credere alla politica, non volete credere alle istituzioni, non volete credere alla scienza. Ascoltate però tutte quelle donne e quegli uomini che erano convintamente, Novavax che una volta andati in ospedale perché hanno contratto il virus, oggi dall'ospedale vi dicono vaccinatevi, vaccinatevi. Credo che sia l'arma più forte che noi abbiamo, insieme a tutti gli strumenti e le cure moderne che ci sono, per sconfiggere questo virus. Qui non è un problema a quale forza politica si appartiene, ma qui c'è in gioco la salute dei cittadini e credo che ognuno di noi che è nelle istituzioni dovrebbe cercare di mandare questi messaggi, che sono messaggi positivi, senza cercare ogni giorno uno scontro come avviene tra vaccinati e non vaccinati. Non è questo il punto. Il punto è come tuteliamo la salute e la sicurezza dei cittadini.